Com'è mondiale il tour di Shakira per promuovere il suo ultimo disco, il Dorado, così lo è la gaffa di cui si è resa involontariamente protagonista la bella cantante, che solo lo scorso 21 giugno ha infiammato i fan italiani nell'unica tappa a Milano. In tanti ai quattro angoli del pianeta, infatti, hanno immediatamente fatto notare una pericolosa somiglianza tra la collana venduta come gadget del concerto e un simbolo nazista. A ben guardare il pendente pare piuttosto simile al cosiddetto sole nero di ispirazione nazi contenente svastiche nascoste. Qualcuno ha cinguettato il pendente col sole nero delle SS in vendita sullo store di Shakira sta passando meravigliosamente inosservato, Shakira Mitunz. L'artista colombiana ha per il momento glissato sull'argomento, mentre Live Nation, promoter del tour, non ha potuto fare a meno di commentare la gaffa di Shakira sul gadget incriminato e ha chiesto scusa a destra e a manca. La collana, hanno spiegato gli addetti ai lavori, si ispirava ad una iconografia precolombiana, tuttavia alcuni fan hanno espresso preoccupazione per una somiglianza non intenzionale tra il simbolo della collana e l'immaginario neonazista. Poi hanno aggiunto, ci scusiamo sinceramente per questa inavvertita somiglianza, abbiamo eliminato definitivamente l'oggetto dalla collezione del tour.